Quarta sconfitta consecutiva per il Roseto Sharks che cede il passo in casa d'Udine col punteggio di 67 a 91, 24 punti di divario che lasciano intendere molto sulla tenuta soprattutto mentale dei ragazzi di Emanuele e di Paolo Antonio che tuttavia avevano anche avuto un buon approccio alla partita. Ancora una volta tra i padroni di casa è mancato l'apporto degli americani, spesso confusionari nelle scelte al tiro. Chiaro, il Roseto quest'anno deve centrare la salvezza, ma quello visto all'opera contro il quintetto di Lino Lardo, a proposito per i friulani, prima vittoria in trasferta, non sembra essere al momento un organico all'altezza. Gli ospiti hanno trovato nel trio Pinton, Raspino e Dickes l'asse su cui hanno conquistato il successo, mentre gli squali in avvio di terzo quarto hanno dovuto rinunciare al capitano Casagrande per uno scontro fortuito col compagno di squadra Combs. I punti pesanti nel Roseto sono stati quelli di Infante e Contento, entrambi a referto con 14 punti a testa. Combs ne ha segnati 15, con una buona percentuale, ma non è piaciuto nell'impostazione, a tratti ha spazientito il pubblico. Tifosi che hanno contestato la società e la presidente Daniele Cimorosi, in modo palese, per una campagna acquisti che ha lasciato molto a desiderare. I pezzi pregiati sono stati tutti ceduti, della vecchia guardia è rimasto Casagrande, e gli americani non sono all'altezza del campionato di A2. L'inizio di gara aveva lasciato presagire ben altro esito, ma negli ultimi due quarti Roseto è praticamente scomparso. I friulani hanno fatto registrare un parziale di 11 a 0, volando a più 19. A più riprese gli squali hanno rosicchiato qualcosa per salvare la faccia, sfruttando un paio di disattenzioni avversarie con contento. Terzo quarto che si è chiuso sul 52 a 63, ma gli ospiti sono tornati a macinare punti, soprattutto con Mauro Pinton. I tifosi di casa amareggiati, la contestazione ha riguardato solo la società, non la squadra, che a fine gara andrà a raccogliere, come sempre, l'abbraccio della curva.